Sarà avviato sabato 12 gennaio con l'approdo della full container H&M Calcavan, il nuovo servizio settimanale che collegherà Salerno via Malta al network della linea Maesk in direzione Suez sulle direttrici verso est con un eccellente transit time. Si tratta di un servizio di estrema rilevanza sia per l'export che per l'import in riferimento ad importanti mercati al centro delle dinamiche dell'economia mondiale, Medio Oriente, Golfo Persico ed Emirati Arabi, Estremo Oriente, Cina, Corea, Giappone, Sud-Est Asiatico, India, Australia e Nuova Zelanda. Proprio verso quest'ultima destinazione saranno imbarcati i primi contenitori prenotati sul nuovo servizio che toccherà i principali porti asiatici. Si completa così un'articolata offerta di servizi da Salerno sulle rotte verso est, ovest e nord. Soddisfazione per l'importante partnership operativa è stata espressa da Agostino Gallozzi, presidente Gallozzi, gruppo SPA. Nei prossimi mesi, ha aggiunto, si coglieranno gli ulteriori frutti della proficua ed efficace azione dell'autorità portuale, che ha saputo procedere in tempi europei al miglioramento infrastrutturale dello scalo di Salerno con il rafforzamento delle banchine e i lavori del dragaggio. La seconda fase dei lavori consentirà l'attracco di navi fino a 8.000 container di portata e segnerà un ulteriore salto di qualità dal punto di vista degli investimenti che saranno messi in campo da Salerno.